Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con tempo molto variabile a causa dell'arrivo di alcune perturbazioni accompagnate da aria più fresca. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di lunedì 8 maggio evidenzia un contesto alquanto instabile. Avremo annuvolamenti irregolari alternati a schiarite più ampie ma con possibili precipitazioni a carattere sparso e alquanto sporadiche. Temperature in calo minime tra 12 e 14 gradi, massime invece sui 18-21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso qualche parentesi soleggiata, ma cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge sparse e qualche rovescio temporalesco. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo delle schiarite con tempo a tratti soleggiato. Nel pomeriggio invece maggiori rovesci. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal Meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.